Il tubo di Venturi è uno strumento che permette di misurare la velocità di un fluido che scorre all'interno di un condotto. Consideriamo un generico condotto di sezione S1, all'interno del quale sta scorrendo un fluido ideale di densità ρ. Chiamiamo la velocità di scorrimento di tale fluido all'interno del condotto v'1. Ad un certo punto di questo condotto inseriamo una strozzatura che si raccorda ad un ulteriore condotto di sezione S2 minore di S1. Chiamiamo v'2 la velocità di scorrimento del fluido all'interno di questo secondo condotto. Il condotto di sezione S2, infine, si raccorda con continuità al condotto originario. Poniamo ora due misuratori di pressione nei condotti di sezioni differenti, che misurino le pressioni p'1 e p'2. Vogliamo determinare quanto valga la velocità di scorrimento v'1 del fluido ideale all'interno del condotto di sezione S1. Iniziamo col considerare la legge di Leonardo sulla costanza della portata. Potremmo quindi scrivere che il prodotto della velocità v'1 per la sezione del condotto S1 è pari alla velocità v'2 per la sezione del condotto S2. In questo caso, ricaviamo un'espressione per v'2 pari a v'1 per il rapporto S1 diviso S2. Un primo importante risultato della legge di Leonardo è il seguente, la velocità del fluido aumenta al diminuire della sezione del condotto. Valutiamo ora, tramite il principio di Bernoulli, la somma di pressione e densità di energia cinetica del fluido in entrambi i condotti. Con la notazione che abbiamo scelto, potremmo scrivere che la pressione misurata p'1 più un mezzo ρv'1 al quadrato, che corrisponde alla densità di energia cinetica del fluido nel condotto di sezione S1, deve essere pari alla pressione misurata p'2 più un mezzo ρv'2 al quadrato, che equivale alla densità di energia cinetica del fluido nel condotto di sezione S2. Inseriamo l'espressione per v'2 che abbiamo trovato dalla legge di Leonardo e otteniamo che p'1 più un mezzo ρv'1 al quadrato, deve essere pari a p'2 più un mezzo ρv'1 al quadrato, che moltiplica il rapporto S1 su S2 al quadrato. A questo punto, raccogliamo le pressione al primo membro dell'equazione. p'1 meno p'2 sarà pari a un mezzo ρv'1 al quadrato, che moltiplica S1 diviso S2 al quadrato meno 1. Isoliamo al secondo membro dell'equazione la velocità v'1 e otteniamo un'espressione per v'1 che è pari alla radice di 2 diviso ρ, la differenza delle pressioni misurate p'1 meno p'2 fratto S1 diviso S2 al quadrato meno 1. Conoscendo quindi le sezioni S1 e S2 dei condotti, la densità del fluido ideale ρ e misurando le pressioni p'1 e p'2, siamo in grado di determinare la velocità di scorrimento del fluido v'1. Osserviamo l'espressione che abbiamo scritto in questo punto. Dato che S1 è maggiore di S2, il rapporto S1 su S2 al quadrato meno 1 sarà maggiore di 0. E quindi questo significa che il secondo membro dell'equazione sarà anch'esso maggiore di 0. Ciò implica che p'1 meno p'2 sia maggiore di 0, e quindi che p'1 sia maggiore di p'2. Questa è l'espressione formale dell'effetto Venturi, tale per cui la pressione di un fluido che scorre all'interno di un condotto è maggiore dove la velocità è minore. Questa è l'espressione. Questa è l'espressione. Questa è l'espressione.